Ciao a tutti, dimenticare un amore, come si fa? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo un appuntamento fondamentale, importante di venerdì 31 gennaio 2020 a Torino ore 20.45 con il mio seminario dal titolo Fai volare l'autostima per migliorare la tua capacità di amare, di essere amato e conquistare che desideri, insomma il riferimento è il 333 15 11 703 e ti ricordo inoltre la possibilità di iscriverti, abbonarti cioè abbonarti al canale Massimo Terramasco per iniziare il tuo percorso di crescita personale con me abbonarti è molto semplice, basta andare sulla home page del canale Massimo Terramasco a fianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati e abbonandoti potrai veramente iniziare il tuo percorso di crescita personale con me e veniamo al tema come dimenticare un amore ovviamente un amore tormentato, un amore che ci ha fatto soffrire perché ci sono persone che stanno male ci sono persone che dicono mi ha lasciato due anni fa è come se fosse accaduto ieri non riesco a vivere bene, mi sento ferita talvolta essere diciamo lasciati, essere abbandonati genera una ferita come una persona che si sentisse strappata a un arto, una persona che si sente strappata diciamo così alla vita fondamentalmente ora perché capita questo? perché queste ferite profonde che possono, e giustamente possono essere delle ferite profonde non si rimarginano, non tendono a rimarginare perché il dolore continua a diventare diciamo preponderante nella vita l'abbandono perché una persona continua a ricordarne un'altra, a restare connesso con quest'altra persona come se il tempo non fosse passato di fatto come se il tempo si fosse in qualche modo magicamente fermato in una situazione di sofferenza e tu continui a cercare a rovellarti il cervello, a fare le cose, a pensare, a riflettere, a rimuginare ecco questo è il motivo, è il troppo pensare, il troppo rimuginare la nostra anima, la nostra parte più profonda non è fatta per pensare si dice cogito ergo sum quindi penso dunque sono in realtà si potrebbe completare penso dunque sono nella merda ecco perché pensare eccessivamente è negativo purtroppo cioè purtroppo nel senso che il pensiero quando tendiamo noi ad alimentarci di pensiero tende ad essere un pensiero ossessivo tende ad essere un pensiero inadeguato tende ad essere un pensiero che non ci porta nessun beneficio non è un pensiero positivo insomma fondamentalmente non è un pensiero positivo dobbiamo imparare a uscire fuori da questa logica diciamo così ed entrare in una logica diversa cercare di entrare in una forma di pensiero positivo e per entrare dentro una forma di pensiero positivo quello che dobbiamo fare è agire perché l'azione è una forma di pensiero ma è una forma di pensiero positivo quindi l'unico vero modo reale per dimenticare un amore dimenticare una situazione che ti ha fatto male che ti ha fatto soffrire che ti ha fatto stare in una situazione di negatività e agire il miglior diciamo il miglior modo per dimenticare un amore è fare delle cose ma fare delle cose è anche un lavoro manuale un'azione però agire attraverso il nostro corpo impegnarsi in un lavoro ad esempio impegnarsi in qualcosa che prenda tutta la tua attenzione e poi agire anche diciamo non soltanto negli impegni ma agire anche nel diciamo nelle relazioni interpersonali quindi iniziare a fare perché l'azione inibisce il pensiero e il pensiero inibisce l'azione purtroppo quando veniamo lasciati tendiamo a fare questa azione di rimuginare cioè riflette ma perché ma per come come sono tutte le cose ma come è possibile ma perché avrò sbagliato da qualche parte questo fatto che non va e poi ricordi tutte le situazioni che ci sono state situazioni che non ci sono state quello che avrebbe dovuto succedere che non è successo e vai a ravanare diciamo nel torbido ecco in questo modo non otterrai assolutamente alcun risultato assolutamente non avrai possibilità di ottenere proprio nessun risultato agendo con queste modalità anzi l'unico risultato che otterrai è quello di avere delle sfortune delle sfighe diciamo che ti impediscono poi alla fine di essere felici quindi la vera capacità la vera abilità per superare bene la fine di un amore è quello di agire fare come fanno i bambini i bambini quando hanno qualcosa che non va iniziano a modellare la creta diciamo così a fare qualche cosa inizia a fare il muratore inizia a fare che ne so a ricamare l'uncinetto oppure inizia a fare sport a fare attività sportiva quando tu fai un'attività fisica pratica il cervello esce dal labirinto dei rimpianti mette in moto energie rigeneratrici e si rinnova fondamentalmente si rinnova vuol dire che vede diciamo qualcosa di diverso rispetto a quello che c'era prima percepisce la realtà in modo diverso quindi non resta più pelagato diciamo così in situazioni rimuginare situazioni che poi dalla fine non ti portano da nessuna parte ma ti instillano soltanto sofferenza e dispiacere fondamentalmente per cui ecco l'utilizzo del cervello in questo modo è la cosa principale fondamentale per uscire fuori da questi stati che potremmo definire stati di sofferenza stati di negatività farlo ti porta dei benefici non indifferenti ti porta proprio la possibilità di cambiare di migliorare di ottenere dei risultati profondi nella tua vita e uscire fuori insomma da questo status di amore di vivere nel ricordo dell'amore vivere nel rimpianto di un amore mai amato amore mai vissuto ecco questo è quello che devi fare quindi agisci se vuoi dimenticare un amore non pensare agisci bene ti ricordo l'appuntamento di Torino venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 20.45 con il mio seminario dal titolo fai volare l'autostima perché se tu farai volare l'autostima inizierai a conquistare proprio le persone che ti interessano e il riferimento è 333 15 11 703 ti ricordo inoltre la possibilità di abbonarti al canale Massimo Terramasco basta andare sull'home page del canale Massimo Terramasco e affianca il tastino iscriviti trovi il tastino abbonati e abbonandoti potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me bene per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo ciao